l'ho detto alle 18 e poi altri spettacoli fino al momento clou che sarà quello del concerto della Celtic Arp Orchestra un gruppo di arpe bravissimi, chi pensa che l'arpa sia uno strumento sopporifero dovrà assolutamente ricredersi perché queste sono veramente arpe molto molto forti che altro aggiungere? per noi è molto emozionante, è l'undicesima edizione è una tradizione che portiamo avanti da dieci anni ormai qua al Maglio di Ome siamo arrivati alla sesta edizione speriamo che possiate apprezzarla e direi che adesso è giunto il momento di cessare le chiacchiere e di invitare sul palco le star di questa serata signori fate sentire se siete caldi o siete freddi signori di Foxconn